Per oggi, venerdì 7 luglio, la mini rassegna su Notizia e non clic, vi do il benvenuto, io sono Loredana, possiede la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che andremo a pubblicarne ancora nel corso della giornata. Essere Afghanistan del regime che cancella le donne. In Albania i tassi di interesse sono fermi e il debito pubblico poco sopra il 60% del PIL. Per il meteo liso di colore per quanto riguarda le grandi città, educazione finanziaria per Torelli e Giorgetti prove di dialogo sui mutui Ancelotti alla conquista del mondo ed è uscito il calendario per la Serie A del prossimo anno sportivo. Il canile municipale è ancora affidato a Lida e una tartaruga marina, l'edifica a Lacona. Lignano ha aperte le iscrizioni per il ventitresimo corso della scrittura creativa. Il Museo di Roma in Trastevere ospita la mostra di Philippe Halsman, Lampo di Genio. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazione. Grazie per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima. E per voi, se vi va, rimanete con noi.